ragazzi buongiorno anche se sono ormai le nove di sera e niente perché questo video intanto perché ho deciso soltanto da una settimana di rende pu di rendere pubblico questo canale e quindi mi sembrava giusto al di là di della mia presentazione autoironica che ha caratterizzato il mio primo video darvi conto di quella che è la ragione di fondo e il modus operandi che caratterizzeranno questo canale ecco questo canale nasce prevalentemente come luogo non fisico come luogo virtuale in cui mettere a disposizione momenti di contro cultura momenti di cultura alternativa che attingono dalla musica dal cinema e da ogni forma espressiva che mi venga in mente per come è messo oggigiorno il canale lo troverete soprattutto tanta 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 musica soprattutto tanta musica hip hop e anche e anche un po di anche un po di rock tradizionale dopodiché ci saranno anche dei video un po più personali come questo in cui invece vi vi darò diciamo alcuni elementi per capire meglio come è strutturato il mio universo mentale da cui appunto attingo per rapportarmi al reale io in questo senso volevo consigliarvi tre libri e tre film che per me sono stati assolutamente fondamentali nel costruire quella 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 sovrastruttura su cui io poi ho ho ritrovato me stesso. I tre film che io vi consiglio sono tre film di fantascienza il primo è un film del 1971 del leggendario regista new yorkese Stanley Kubrick intitolato Arancia meccanica un libro che allora intendeva parlare del futuro un libro che profetizzò in modo in un modo veramente inquietante quello che poi sarebbe effettivamente avvenuto da lì ai successivi 30 anni almeno per quel che riguarda la nostra società. Il secondo libro che io vi consiglio vivamente scusate il secondo film che vi consiglio vivamente di legge di andarvi a guardare è Blood Runner di Ridley Scott un film che risponde a queste tre fattiviche domande chi siamo, da dove andiamo e dove stiamo andando in quanto uomini, in quanto esseri umani un film che non prova a dare una risposta ma che pone appunto questi tre interrogativi come è giusto che faccia un'opera d'arte nel momento stesso in cui moltiplica gli interrogativi non è compito della cultura di dare risposte è compito della cultura e compito dell'arte di porre degli interrogativi cosa che questi due film di cui vi ho parlato poc'anzi sicuramente riescono a fare molto bene. Il terzo film è un film invece molto più recente conosciuto dalle nuove generazioni intitolato Matrix. Anche questo film io ve lo consiglio con tutte le mie forze perché vi offre degli spunti molto interessanti per meglio interpretare il mondo in cui, il sistema in cui siamo calati. a fianco a questi tre film che vi ho ricordato quindi Arancia Meccanica, Blade Runner e Matrix vi voglio invece elencare tre libri che hanno avuto per me lo stesso impatto nel senso che mi hanno permesso di pormi degli interrogativi che fino a quel momento non mi erano minimamente passati per l'anticamera del cervello. Quali sono questi tre libri? Allora il primo è American Psycho, bestseller di Bretis Tonellis, scrittore americano, che ci racconta molto bene che cosa sono stati davvero gli anni 80, quindi l'epopea reganiana, per comprendere poi quali sono stati gli sviluppi a livello sociale a partire da quel periodo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi il primo libro è assolutamente da leggere, di Bretis Tonellis, American Psycho. Il secondo libro che vi consiglio invece è una perla dello scrittore francese Michel Houellebecq intitolato Le Particule Elementari, Le Particelli Elementari, che ci racconta in un modo sorprendentemente originale la vicenda dell'uomo all'interno della storia con un realismo che io definirei chirurgico. Tra l'altro l'interesse verso questo scrittore mi portò ormai quasi vent'anni fa, quando avevo circa 22 anni, a realizzare un documentario sulla figura di questo scrittore intitolato Michel Overnoux, un documentario che realizzai insieme a Stefano Bedetti in arte di Mills, documentario che appunto è l'unico lavoro sulla vita di questo scrittore finora edito, almeno nel nostro paese, distribuito da Lucky Red come extra nell'opera cinematografica Le Particelli Elementari, tratto appunto dal romanzo di Michel Houellebecq. Infine, dopo avervi dato conto di questi due libri, di Bretis Tonellis e Michel Houellebecq, il terzo autore che vi consiglio assolutamente di leggere è David Dyck, di cui vi consiglierei tutto, veramente tutto dall'inizio alla fine, ma per iniziare io direi Il risveglio del leone, un'opera straordinaria che veramente vi cambierà in modo definitivo il vostro modo di vivere, di intendere, di percepire l'esistente. Ok? Quindi questi meravigliosi tre libri, questi incredibili tre film, sono secondo me un ottimo viatico per iniziare questo viaggio dentro il pensiero umano, dentro la storia dell'uomo. Un abbraccio e un arrivederci alla prochaine fois.